Buongiorno, lei lo accennava prima, però nello specifico ieri il bilaterale con il collega giapponese è stata l'occasione per parlare soprattutto del ponte sullo stretto. Come viene percepito all'estero, cosa ne pensano i colleghi esteri e in seconda battuta come risponde alle associazioni e ai cittadini italiani che sostengono che il ponte non verrà mai costruito? Grazie. Io posso riferire a cosa mi hanno detto i sei colleghi che ho incontrato in questi giorni, i sei colleghi dalla commissaria europea al collega giapponese, al collega canadese, al collega britannico, sono tutti assolutamente attratti da quella che sarà la più grande opera di ingegneria per quello che riguarda un ponte a campata unica di 3 km, 3 che non ha uguali al mondo. Oltretutto con partnership giapponesi, spagnole, danesi e americane, perché ricordo che i partner che lavoreranno già dal 2024, perché ribadisco col massimo rispetto per le opinioni di tutti, però faccio il ministro, onori e oneri di decisioni, è da un secolo che alcuni milioni di italiani attendono di essere collegati stabilmente al resto del loro paese, e quindi l'obiettivo è aprire i cantieri nel 2024, c'è una componente giapponese, il Giappone assolutamente ha il know-how e parlavamo del ponte di Akashi, c'è una componente danese, io andai a visitare il ponte di Oresun che è un'opera straordinaria che sta macinando più utili rispetto al previsto, come tutti i ponti di queste dimensioni, c'è una componente di consultor americani come la Parsons che lavora in grandi paesi al mondo e partecipa anche a questa iniziativa, c'è una componente spagnola, ci sono le migliori università italiane coinvolte nel comitato tecnico scientifico, il ponte non lo fanno i politici ma lo fanno gli ingegneri, gli architetti, i manovali, i geologi, è fatto per resistere nei secoli, non negli anni evidentemente, io penso che sarà un moltiplicatore di ricchezza, di lavoro, di ulteriori infrastrutture come lo fu l'autostrada del sole nel secondo dopoguerra, quindi rispetto chi la pensa in maniera diversa, rispetto un po' meno chi ne fa una battaglia politica, un ponte è un ponte, una galleria è una galleria, una ferrovia è una ferrovia, un casello autostradale è un casello autostradale, non è il ponte di Salvini, io sono nato a Baggio, a Milano e ho casa a Milano e a Roma, lo userò sicuramente, però il ponte sarà un cambio di vita per migliaia di pendolari che ogni giorno devo prendere il traghetto e dal punto di vista della sostenibilità ambientale è una rivoluzione, perché invece di avere migliaia di traghetti che attraversano lo stretto, tu hai il treno, la moto e il camion che in pochi minuti attraversano lo stretto, io ricordo che a proposito di merci, di ferrovie, di sostenibilità, stiamo parlando del Frejus, stiamo parlando del Brennero, stiamo parlando di decarbonizzazione, oggi un treno merci ci mette circa tre ore ad attraversare lo stretto e un treno passeggeri due ore, tu pensa alla maggior competitività del sistema Italia se invece di tre ore ci metti dieci minuti, ti cambia il mondo, quindi l'obiettivo è di riportare i colleghi del G7, mi sono impegnato a farlo, a visitare i cantieri aperti entro l'anno 2024.